Ciao a tutti, oggi sono qua in procura di Monza, sono venuto a parlare col procuratore capo Carnevali e come avevamo annunciato qualche tempo fa abbiamo presentato un esposto alla procura relativi alla vicenda delle uova alla diossina di Desio. Quello che ci ha spinto a fare questo esposto è stata la mancanza di risposte da parte degli enti pubblici preposti. I sindaci non hanno fatto nulla sostanzialmente, l'ASL e l'ARPA si sono limitati a dire che c'è questo inquinamento sui terreni ricavato tramite l'analisi delle uova, ma poi la cosa si è fermata lì, nessuno ha detto nulla, nessuno si è posto il problema di capire come mai c'è questo inquinamento, da dove arriva, quali siano le fonti, quali siano i possibili rimedi. Non è possibile certificare semplicemente un livello di inquinamento 21 volte superiore per quanto riguarda la diossina nelle uova di un allevamento di Desio e non fare niente, fermarsi lì. Io ho provato a fare delle azioni anche in regione, senza successo, il collega Davide Tripiedi a Roma ha presentato un'interrogazione, siamo in attesa di risposta, però non basta a questo punto che sia la procura a valutare se ci sono dei profili di responsabilità penali per gli enti preposti, per i sindaci, per l'ASL, per l'ARPA e andare fino in fondo per capire da dove arriva questo inquinamento e quindi fare delle analisi specifiche nei terreni, estendere le varie analisi e vedere quali sono i risultati.